Dal 2006 mi occupo di servizi assicurativi a 360 gradi. Salve, sono Pierpaolo Ruffo, ho 38 anni. Che c'è da dire di me? Sono sposato da 12 anni, ho tre figli. La nostra azienda si occupa prevalentemente di assicurazioni, cioè che cosa significa? Significa che assicuriamo a 360 gradi tutto quello che c'è da assicurare, dalla famiglia alla persona, alle aziende e poi la classica autovettura che è la nostra cupola di battaglia. Ci avvaliamo di compagnie importanti per poter dare ai nostri clienti il maggior servizio e tutela. Nella nostra azienda ci occupiamo anche di caffè e assistenza fiscale assieme a mio fratello, dove andiamo a dare un servizio in più ai nostri clienti e cercare di dare il massimo con molta professionalità nel settore. Ci troviamo in Viale Margherita 194 a Rossano, con questa fusione anche tra Corigliano e Rossano. La nostra azienda è situata in una delle vie principali di Rossano.